Dopo un grande 2016, puntate ad un 2017 ancora più ricco di soddisfazioni. Migliorarsi non è mai semplice, però voi ci proverete ovviamente. Ma assolutamente sì, noi cercheremo appunto di riconfermarci a livello di vittorie per quello che abbiamo fatto tanto bene nel 2016 e sono state ben quattro vittorie, magari di farne qualcuno in più e magari di centrare qualche bella fuga in alcune gare importanti dove ci permette appunto di crearci un bel po' di visibilità che poi è la cosa più importante per noi come team e per gli sponsor. Mi aspetto molto da tutta la squadra, poi se dobbiamo fare dei nomi, io faccio il nome di Lander, di Parrinello, di Tizza, di Sante, di Pacchiardo, cioè comunque sono tanti atleti importanti, interessanti per noi che possono veramente togliersi loro qualche soddisfazione e regalarcelo a noi veramente qualche bella cosa molto importante. Sono tifoso delle persone che credono in queste situazioni come Gabriele, è quella cosa che mi ha convinto di più, cioè il cicchismo non è il mio brand, è il mio core business come si dice, perché è difficile, è faticoso, è spettacolare, nelle tappe più importanti è come l'automobilismo, guardi la partenza, l'arrivo, insomma in mezzo lasci un po' stare, però ecco quello che mi ha affascinato intanto era essere qui e poi la grande professionità di Gabriele è fuori di ogni dubbio. E a Gabriele Marchesani per il 2017 cosa vogliamo augurare? A Gabriele Marchesani come a tutte le persone che ci stanno guardando un gran bene, sempre, ricordate che poi non siamo esenti dal dolore, nessuno di noi, per cui affrontiamo la vita con grandi sorrisi, sempre, svegliamoci così, questo 2017, ogni giorno con un bel sorriso, cominciamo così la giornata, hai visto mai che porti fortuna.